Ben trovati alla terza edizione del TG6. I dipendenti della giunta regionale proclamano lo stato di agitazione. Tutti i sindacati si uniscono nel denunciare la trascuratezza nella gestione delle politiche e del personale in un contesto di profonda riorganizzazione istituzionale. Francesca Romanatessi. E' stato annunciato lo stato di agitazione da parte del personale della giunta regionale d'Abruzzo ad annunciarlo le segreterie regionali di CGL, CISL, UIL e UGL. Tutto ruota intorno alla riorganizzazione della macchina amministrativa. In 18 mesi di governo D'Alfonso, spiegano i sindacati, si è assistito ad una tutela crescente verso i ruoli dirigenziali con conseguente implementazione del loro numero e una serie crescente di riduzioni invece rivolte ai dipendenti. La regione vuole spostare e trasferire personale dalle sedi periferiche alle sedi centrali, riteniamo senza un progetto organico. Questo è quello che noi denunciamo, quindi chiediamo alla regione un cambio di passo. È un vero impegno nella gestione delle risorse umane. Tra le osservazioni mosse dai sindacati c'è il rapporto tra dirigenti e dipendenti, rapporto che sta a 1 a 19. Una sproporzione grande se si pensa che nel privato esiste un dirigente ogni 100 lavoratori e che presso l'Inps di Pescara il rapporto aumenta con un dirigente per ogni 200 lavoratori. E soprattutto che nel caso dei primi gli stipendi sono stati aumentati e per i dipendenti invece si è proceduto a diminuirli. Noi abbiamo denunciato una totale trascolatezza nella gestione del personale della regione Abruzzo, mentre tutte le riforme della pubblica amministrazione contemplano una riduzione del numero dei dirigenti. Noi in regione Abruzzo abbiamo più di un dirigente ogni 20 dipendenti, con un costo per ogni dirigente di oltre 170 mila euro. A fronte di ciò notiamo una riduzione di anno in anno del salario dei restanti dipendenti, che guadagna sostanzialmente 1200 euro al mese. Un cambio di passo che in qualche modo volete entro una certa data, c'è una scadenza oppure chiedete un incontro? Innanzitutto chiediamo un confronto serio, costruttivo e che dia dei risultati presto, subito. E forza Italia critica, spramente la finanziaria da poco approvata, tra i punti critici l'alta tassazione, l'assenza di un piano di sviluppo economico e il fenomeno della disoccupazione. L'approvazione del bilancio regionale ha fatto più notizia per la polemica tra i 5 Stelle e D'Alfonso, nell'ormai famosa scena della poltrona tolta e poi ripresa dal governatore, che per i risultati ottenuti. Il centro-destra, a sette giorni da quell'approvazione, spiega le criticità della nuova finanziaria, della quale ancora nessuno aveva parlato. La finanziaria è totalmente insufficiente, perché è una finanziaria piena di tasse, senza certezze, che non aggancia la ripresa economica. Infatti i dati occupazionali dell'Abruzzo e in generale della nostra produzione di PIL, se non ci fosse il polo dell'automotive e del sangro, sarebbero fallimentari. Siamo tra le ultime regioni d'Italia e recuperiamo meno di tutti disoccupazione. Perché? Perché siamo pieni di tasse. Perché se non rimettiamo i soldi dalle tasche degli abruzzesi, non facciamo ripartire i consumi interni. Se da un lato la tassazione era stata aumentata a causa del debito accumulato, il riferimento è alla sanità, oggi non si spiega perché il pareggio raggiunto abbia prodotto la chiusura di tanti presidi, la riduzione di tanti servizi e una tassazione ancora alta. Questo governo di centro-sinistra sa solo tassare riducendo i servizi, perché contemporaneamente vengono ridotte le strutture ospedaliere. Noi abbiamo lottato fino all'ultimo secondo utile, con ore e ore, giorni e giorni di ostruzionismo in aula tutta la notte e fino all'alba, per cercare almeno di ridurre il danno. E su alcune attività come la tutelare del piccolo commercio, la difesa delle categorie più deboli, la possibilità di far ripartire alcune iniziative imprenditoriali, abbiamo ottenuto dei piccoli risultati che comunque per noi sono da sottolineare. E poi un piano di sviluppo del lavoro, poche chiare ancora le politiche dedicate all'occupazione e alle imprese. Noi abbiamo tassi al massimo ingiustificate, non abbiamo più bisogno degli ulteriori aumenti degli addizionali perché siamo in pareggio di bilancio. Sono 25 milioni di euro all'anno che possiamo restituire agli abruzzesi e va fatto. Il sindaco di L'Aquila, Massimo Cialente, tratteggia gli obiettivi per il 2016, ricostruzione completata entro il 2019, ma bisogna far ripartire, ha detto, l'economia della città. Questa è la vera emergenza. Daniela Rosone. 800-900 milioni da spendere nel 2016 per dare altri importanti input alla ricostruzione della città dell'Aquila. Se nel centro storico l'asse centrale procede bene, molte frazioni attendono invece ancora la luce, ma a brevissimo giro, annuncia Cialente, il sindaco dell'Aquila partiranno anche qui i cantieri. Il ritardo c'è stato, ammette, nel centro storico. Di fatto siamo partiti nel marzo 2013 con la ricostruzione vera e propria. Il cronoprogramma ha avuto uno slittamento, ma ora con i fondi a disposizione possiamo finalmente rispettarlo. Il problema, quello cronico, secondo il primo cittadino, resta quello del personale e la lentezza a causa di questa difficoltà nello smaltire le pratiche. Il sindaco però ha già chiesto interventi in questo senso al governo centrale. Per quel che riguarda il centro storico, l'asse centrale, come dicevamo, va bene. Un piccolo ritardo si sta registrando soltanto per l'edificio della biblioteca e per qualche altro palazzo del centro, ma tutto sommato si procede. Il sindaco dice che nel 2019 si sarà a buon punto con la ricostruzione anche per le frazioni dell'Aquila. Il vero problema, dice Cialente, non è ora la ricostruzione che sta andando, lo scrive anche Repubblica, ma l'obiettivo del 2016 del Comune dell'Aquila dovrà essere necessariamente il rilancio economico e occupazionale. Su questo proprio non ci siamo. Rischio inagibilità per il porto di Pescara secondo i progetti per la costruzione analizzati in una relazione dell'Università La Sapienza e di Cassino si rischierebbe l'alluvione. Vediamo perché. Si parla dei progetti sul porto di Pescara e ci si chiede, si passa dalla padella alla brace, perché secondo uno studio condotto dall'Università si rischierebbe anche la chiusura nel periodo estilogo e non solo per diversi giorni. Perché? Perché, stiamo parlando di questi progetti, quindi negli elaborati progettuali c'è scritto che tagliando la diga forana in quel punto e facendo la barriera soffolta dal parallela al Molo Nord che è il progetto che vuole fare il provveditorato si creerebbe in alcune condizioni in alcuni periodi dell'anno delle onde che entrano dentro a Porto Canale e rendendo impraticabile la navigazione. Poi c'è un altro problema che loro non affrontano è che in quelle condizioni poi se l'onda entra dentro al porto e se c'è una piena contemporanea del fiume cosa succede? il fiume non si può sfogare e quindi rimarrebbe l'acqua dentro Pescara e questo quindi vuol dire che aumentate il rischio di esondazione nella città un fatto molto molto grave è incredibile peraltro che il provveditorato abbia fatto la gara d'appalto una delle due ha già segnato addirittura l'altra in corso prima ancora di avere autorizzazioni perché la fase di valutazione di impatto ambientale è ancora in corso quindi qui si arriva al paradosso cioè si fa la gara d'appalto quindi si lega la pubblica amministrazione a delle aziende che hanno risposto per milioni di euro senza avere le autorizzazioni in regola la dica soffolta sarà un'altra cavolata perché quando fecero i materassi di pietra il risultato l'abbiamo c'è stato solo uno sperpero di denaro ora guardando questo documento a riguardo a quelle che vogliono fare ci sono dei momenti in cui il porto di Pescara sarà inagibile praticamente basti che si verificherebbero due metri d'onde il porto di Pescara ci sarà l'interdizione alla navigabilità allora io stavo riflettendo siccome già abbiamo un mare molto ma molto ristretto tanto è vero che adesso siamo relegati la zona dove peschiamo si seguita a restringere se dopo ci andiamo a mettere anche che non possiamo uscire dal porto perché ci sono queste interdizioni alla navigabilità per delle onde che superano i due metri di altezza io mi domando che cosa stiamo facendo livelli preoccupanti di batteri e scherichia nel mare di Pescara questo emerge dai dati dell'arta dopo l'ultimo prelievo effettuato a fine dicembre il vice sindaco Enzo Del Vecchio annuncia la caccia agli scarichi abusivi e coinvolge enti prefettura e capitaneria di porto mare inquinato a Pescara in pieno inverno sono i dati dell'arta a renderlo noto picchi allarmanti di scherichia e coli batteri il pensiero va subito ai divieti di balneazioni per la prossima estate e il ricordo va a quella appena trascorsa ma prima di gridare all'allarme spiega il vice sindaco una riflessione va fatta non esiste un paragone per capire se l'inquinamento sia allarmante o se in passato vi fossero precedenti perché mai prima ad ora si era provveduto a fare prelievi in inverno questo monitoraggio non è stato mai eseguito negli anni precedenti quindi non abbiamo una misura di raffronto se durante il periodo invernale i valori potessero essere diversi rispetto agli anni precedenti quindi è una analisi ex novo e quindi va presa per quello che è detto questo la preoccupazione comunque rimane alta perché comunque sia il fiume Pescara trasporta inquinanti in misura molto elevata un'altra riflessione da fare è quella sugli scarichi abusivi perché la vera difficoltà risiede nel risalire a concessioni effettuate in anni lontani e soprattutto dai protagonisti responsabili nelle ultime settimane infatti la Guardia Costiera ha scoperto più di 50 scarichi abusivi non censiti una bella matassa da risolvere e l'appello dell'amministrazione oggi è alla collaborazione da parte di tutti gli enti abbiamo interessato il presidente della regione Abruzzo perché coordinasse un'azione un tavolo tecnico di tutti gli enti locali perché si assumano si assumano decisioni al riguardo sappiamo e leggiamo anche sul giornale di un'attività diciamo di indagine da parte della Capitaneria di Porto non so se anche da parte di altri organi dello Stato di Polizia dello Stato se ci sono altri controlli però già questi ci danno la misura di come dire che qualcosa non funziona e non funziona in maniera elevata è una donna di 63 anni è morta in seguito ad uno scontro frontale tra due auto avvenuto sulla statale che collega Raiano a Goriano Sicoli in provincia di L'Aquila a bordo dell'altra auto c'era una conducente di 30 anni rimasta ferita e trasportata in elisoccorso all'ospedale dell'Aquila la donna non sembrerebbe in pericolo di vita sul posto oltre ai vigili del fuoco le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica ed ora cambiamo decisamente argomento il gruppo il volo aperto il tour invernale da Roseto degli Abruzzi un omaggio alla città di Gianluca Ginobile che ricambia l'affetto con una dedica in dialetto 3.000 spettatori un palco imponente un'orchestra di oltre 40 elementi e applausi interminabili a scena aperta vediamo che sarebbe stato un trionfo era certo fan assiepati in attesa di vederli sul palco che nell'attesa inneggiavano le loro canzoni forze dell'ordine presenti in gran numero uno staff numerosissimo impegnato a far filare tutto liscio senza dimenticare nessuno un palco allestito in grande stile più di 40 elementi disposti come nei più grandi show del compianto Frank Sinatra e poi l'arrivo di loro tre allegri sorridenti e divertiti si preparano nei camerini cantando e scherzando Gianluca Ginobile è il più emozionato di tutti perché per la prima volta da quando è una star internazionale riesce ad esibirsi nella sua roseto e questo è il suo saluto al pubblico con questi compagni di viaggio colleghi e amici abbiamo come sapete abbiamo girato il mondo cantato veramente con personaggi molto molto importanti però finalmente Stingdon tra la casella a seguirli oggi ad aver visto le loro potenzialità da subito c'è un uomo di altrettanta fama internazionale Michele Torpedine manager dei Volo e precedentemente scopritore di star del calibro di Andrea Bocelli Giorgia che descrive così i suoi tre talenti all'estero hanno fatto successo i tenori italiani il bel canto l'opera le grandi voci e il risultato di questo è proprio perché come è successo con Bocelli in passato con Mario Lanza con altri Caruso Pavarotti era quasi scontato che succedesse prima all'estero che in Italia nell'anno dell'uscita del loro primo libro Una grande avventura tutto sembra ripercorrere il loro vissuto anche la scenografia sul palco che racconta le loro storie più intime più vere più lontane un regalo al pubblico per conoscerli ancora meglio quando diventi un personaggio noto tanta gente scrive cose non vere e dopo quando hai l'occasione di pubblicare un libro tuo finalmente hai l'occasione per entrare a casa delle persone e raccontare la verità quando uno dice la verità non è mai difficile parlare perché è sicuro di quello che è successo è sicuro che non ha fatto niente di sbagliato ecco qui davvero posso si capisce posso davvero vedere chi mi vuole veramente bene chi è qui per applaudirmi ed applaudire Ignazio e Piero e quindi sono davvero felice il concerto è un tripudio di applausi cantano incantano scherzano fanno sognare per qui guardami io con te sento che non esista che non sia tua che non è qui è un respiro fra noi senza fine se vuoi ci sarò se tu non stai perito ciao a tutti siamo Il Volo vi mandiamo un grande abbraccio dalla vostra esatto a tutti i nostri amici di TV6 siamo Il Volo con affetto da Roseto degli Abruzzi ciao ciao e gli impianti di Campo Imperatore hanno fatto registrare buoni numeri in queste festività ora al via una serie di interventi su seggiovia e albergo ma manca una visione industriale vediamo buona l'affluenza sulle piste da sci di Campo Imperatore nel periodo delle festività è il bilancio tracciato dal direttore di esercizio del centro turistico del Gran Sasso l'ingegner Marco Cordeschi numeri buoni in attesa dei lavori è andata molto bene dice Cordeschi è stato un bel periodo bel tempo che non ha condizionato dunque le presenze sul Gran Sasso ci sono state presenze costanti non numeri elevatissimi ma tutto sommato siamo soddisfatti nei prossimi mesi ci saranno i lavori alla seggiovia Le Fontari e all'albergo di Campo Imperatore ormai certi interventi infatti non sono più rimandabili la giudicazione della gara per la sostituzione delle Fontari dice Marco Cordeschi è una cosa importantissima la Leitner entro l'anno dovrà provvedere alla sostituzione dell'impianto l'impianto infatti ha ridotto malissime questo intervento è assolutamente urgente il comune so aggiunge si sta muovendo per la ristrutturazione dell'albergo e dell'ostello altri aspetti molto importanti negli anni però sul Gran Sasso è mancata completamente la gestione menageriale bene la montagna ma non dal punto di vista dei servizi c'è tutto sul Gran Sasso ammette Cordeschi dal punto di vista della bellezza della montagna della natura però per il resto siamo messi molto male al di là della programmazione del piano d'area del piano strategico gli interventi di rilancio infatti non sono mai stati effettuati così come non c'è stato il management industriale da anni si parla poi di privatizzazioni in termini industriali si deve fare dice Cordeschi un comune anche importante come quello dell'Aquila non può pensare di gestire un sistema industriale di questo tipo ci sono situazioni che vanno corrette e vanno corrette al più presto e a Loreto Aprutino la Befana è arrivata in piazza con la teleferica rinnovando così la collaborazione con il corpo provinciale dei vigili del fuoco di Pescara Antonio Recanati è tornata appuntualmente a Loreto Aprutino l'undicesima edizione della Befana dei bimbi curata dall'associazione splendida Loreto E e patrocinata dal comune di Loreto Aprutino alla mattina l'arrivo delle Befane al teatro con l'esibizione dei ragazzi della scuola primaria e della scuola media pomeriggio in piazza dove tra spettacoli e balli è arrivata la Befana con la teleferica rinnovando così la collaborazione con il corpo provinciale dei vigili del fuoco di Pescara certo è una manifestazione di fine feste natalisi è comunque la prima manifestazione dell'anno quindi è sempre una manifestazione di buon auspicio ecco è una manifestazione che raccoglie l'adesione di molte associazioni prima in tutto diciamo l'Oretto splendida Loreto E di Rossana Buccella dove collaborano pure i vigili urbani di Loreto Aprutino c'è diciamo un grande sponsor di Clementi che con il camping grigopiano infatti la manifestazione è partita già dal 27 dicembre con l'arrivo di Babbo Natale su Arrico Piano e poi tanti sponsor la scuola che partecipa in maniera diciamo sostanziosa quindi ecco una grande festa per i bambini questa manifestazione è più improntata verso la solidarietà soprattutto verso i bambini è una manifestazione che riesce soprattutto perché c'è gente che ci lavora non c'è nulla di improvvisato quindi quando c'è il lavoro diciamo tutto riesce ma soprattutto tutto a beneficio dei cittadini e soprattutto mi ripeto dei bambini ed ora passiamo alla pagina sportiva non molliamo ma non accetteremo più insulti gratuiti queste le dichiarazioni di Valentina e Guglielmo Maio in una affollata conferenza stampa tenutasi questa mattina al Biondi per chiarire le ultime uscite di mercato ma anche le voci sulla cessione della società il servizio è di Alessio Gian Cristofaro Guglielmo Maio si parla qual è la risposta della società in questo momento la società è viva esigue le mie dipendenze ne sono tutte quante calcolate è semplicemente un fatto di autonomia gestionale il Lanciano siccome è legato con un cordone umbilicale molto forte direttamente ai fondi della mia famiglia e le disponibilità della mia famiglia le volontà della mia famiglia vogliamo rendere il più autonomo possibile il Lanciano se questa è una colpa sono colpevole sarà gente che andrà gente che verrà ripeto saranno 11 giocatori che andranno in campo tutti i sabati barra domenica quando c'è il posticipo che si lotteranno la salvezza fino alla fine questo ve lo posso garantire i giocatori sono andati via perché hanno deciso di andare via c'è un mercato con le sue regole e hanno deciso di andare in altre parti perché forse stanno meglio in altre parti noi abbiamo fatto le nostre proposte che ne facciamo tutti gli anni c'è chi l'accetta e chi no onore a loro li ringraziamo per quello che hanno dato perché ci hanno dato tanto e se se ne vanno con le lacrime un po' di merito c'è pure questa società che forse ha creato qualcosa in questi anni le continue voci di cessione della Virtus? non so più che dire appena mi arriva una richiesta pure via sms la pubblico da qualche parte arriva in altre priorizzazioni perché si andava ai lughi con dei pagamenti che cosa è stato proposto in particolare ai giocatori che sono andati via? di prendere gli stessi stipendi pattuiti non un euro di meno semplicemente la frequenza sarebbe cambiata quindi a giugno quando scade il contratto loro avrebbero preso tutti i soldi che devono prendere tutto qua deluso? incazzato molto ho sempre creduto in questa squadra da quando l'ho presa da quando prendiamo i pomodori per il primo anno fino ad oggi che facciamo 4 anni di bib perché per la fredda cronaca è questa e facciamoci tutti i ricami che vogliamo ho preso una squadra fallita in C2 8 anni fa e siamo al quarto anno di serie B è una piazza calda che ha sempre dimostrato attaccamento e li ringrazio li ringrazio sempre soprattutto quelli che vanno in trasferta si fanno migliaia di chilometri non accetto però e non lo accetterò mai le critiche personali le offese personali perché non voglio grazie non voglio essere ricordato voglio soltanto il rispetto personale mio e della mia famiglia quello ci tengo il resto non passo su a nulla se qualcuno c'ha da criticare criticasse ma le offese alle persone no adesso mettiamo anche gli avvocati chi scrive adesso prenderà le sue responsabilità Biancazzurri al lavoro invece sul campo in attesa della risorsa del torneo ma soprattutto sul mercato dopo Verde e Domizzi in arrivo altri giocatori in prova l'attaccante albanese Calaia 21 partite io non chiederei niente al presidente solo che purtroppo bisogna tenere conto del fatto di eventuali infortuni l'età del giocatore squalifiche eventuali playoff dove sono partite molto ravvicinate quindi è ovvio che non puoi stare contro i centrali e basta quello che non vogliamo fare l'ultima cosa che vogliamo fare è fare casino per casino intendo andare a sprovveduta aprire il mercato pescare dove capita noi dobbiamo fare cose intelligenti ponderate soprattutto giocatori funzionali a quello che serve a noi quindi con molta adesso non c'è questa fretta nel senso che dura un mese il mercato penso che per le prossime due partite tre centrali sono più che sufficienti l'importante questo è normale che prima della fine del mercato qualcuno arriverà con grande pazienza e intelligenza di capire quale sia il giocatore più adatto ma infatti gli innesti che abbiamo in testa di fare sono sono innesti che servono il mancino che mancava il centrale che numericamente manca e basta gli innesti due basta con prezzo no sì poi è ovvio che nell'arco di un mercato possono succedere anche cose ma sicuramente non andremo a mettere altri giocatori se non ci sono delle uscite nessuno è incedibile sono tutti utili nessuno è indispensabile io come ho detto prima non ho chiesto la cessione di nessuno semmai sono loro che quello che ho detto prima più chiaro di così se Cocco vuole stare qui e lottare per una maglia sta qui se Cocco si sente nell'ingrato se Cocco non si sente bene qui non sta bene o preferisce andare a giocare d'altre pari parlo di Cocco ma di chiunque altro verrà andrà in società lo chiederà e non è che automaticamente andrà via ovviamente perché Cocco è un giocatore che è stato pagato quindi se ci saranno poi lì la palla passa da società e se ci saranno le condizioni Cocco o chi per lui andrà via se non ci sono le condizioni sta qua e lotta per una maglia ed ora scendiamo in Lega Pro praticamente sfumato per il Teramo l'obiettivo Saveriano Infantino l'attaccante ha risolto il suo contratto con la Carrarese e si appresta a firmare un triennale con il Matera sul fronte attacco resta in piedi l'ipotesi Petrovic giocatore di proprietà del Catania ora è in forza alla Virtus Entella squadra dalla quale proviene l'esterno bianco-rosso Cecchini che ascoltiamo in questo servizio cercare di invertire la rotta rispetto all'andata soprattutto per quanto riguarda le partite esterne e dare una svolta a questo campionato e riprenderci le posizioni che ci spettano soddisfatto proprio no posso fare meglio anch'io lo so e mi metterò al lavoro il più possibile d'altronde la posizione mi è un po' nuova diciamo quella di quest'anno e quindi devo cercare di migliorare i particolari di ogni tipo tutto lavoro minutaggio è dovuto più o meno alle prestazioni se il mister decide di lasciarmi fuori evidentemente avrà le sue ragioni adesso è importante mettersi sotto per pensare alle partite prossime e lo spazio bisogna cercare di ritagliarselo io sono tranquillo sono del Teramo adesso e quindi penso a dare il 100% per la squadra non ascolto varie sirene di mercato e spero così facciano tutti magari c'è chi che è meno contento chi no però al momento finché sia qua bisogna dare il 100% per questa maglia io ho bisogno di rilanciarmi e in una società in cui non avevo più tanto spazio non era non era possibile ho bisogno di giocare dopo un anno un po' difficile quindi non non guardo con rammarico al campionato che stanno facendo loro ma io penso al mio e a fare bene per me stesso quindi solo adesso conta solo il Teramo ed ora la serie D torna al successo il San Nicolò di Epifani che supera di misura i Marsicani che si sono svegliati solo nella ripresa i Teramani tornano a respirare così aria di playoff Jacopo Forcella dopo sette tentativi andati a vuoto il San Nicolò torna a riassaporare il gusto dolce della vittoria la Befana porta in dono il derby contro l'Avezzano la squadra di Massimo Epifani a cui basta lo squillo nel primo tempo di Merlonghi per avere ragione dei Biancoverdi Epifani schiera subito l'ultimo arrivato Andrea Cerqueti Brighi e Terrenzio coppia centrale di difesa Bucchi terminale offensivo con tre uomini alle spalle stesso schieramento di Lucarelli con Moro che agisce davanti a Pollino Bisegna e De Santis a centrocampo Sassarini e Censori sono i frangiflutti l'Avezzano ha il controllo del gioco almeno all'inizio e lascia al San Nicolò la possibilità di ripartire e infatti le azioni più pericolose sono della squadra proprio di Epifani che prova con Donatangelo dopo sette giri di lancette pallone però alto molto più pericolosa l'occasione del minuto 11 quando Davino deve ricorrere a tutti i suoi riflessi per disinnescare il colpo di testa di Bucchi prima che Felli allontani il secondo tentativo di Diegidio sulla ribattuta dell'estremo difensore il gol dei padroni di casa arriva a metà frazione Merlonghi fino a quel momento in ombra sulla sinistra rompe il raddoppio di De Santis in marcatura con Felli entra in area di rigore e scarica il destro imparabile sotto la traversa nulla da fare per Davino San Nicolò che fiuta il momento positivo e con Maurizio Chiacchiarelli prova a calare il bis destro violento ma impreciso Marsicani che a 9 dall'intervallo ci provano da piazzato con lo specialista Bisegna parabola perfetta se non fosse per calore che ci mette la mano allontanando la minaccia meno emozioni nella ripresa Lavezano prova a premere sull'acceleratore alla ricerca del pareggio ma trova raramente la strada giusta si passa spesso e volentieri dal sinistro di Bisegna che al 52esimo lascia partire una sassata tremenda che impegna calore alla deviazione in corner Lucarelli gioca le carte di Genova e di Curzio per De Sanctis e Ndiaie ma gli spazi sono intasati anche se il San Nicolò fa fatica a ripartire quando ne ha le possibilità Epifani toglie De Giglio per Massetti e successivamente uno stanco Chiacchiarelli per Moretti ma nonostante i 4 minuti di recupero non succede più nulla il San Nicolò sfata l'incubo di quel primo novembre 5-1 Alfano che rappresentava l'ultima affermazione in campionato Lavezano invece si lecca le ferite e ora subito la sfida contro la capolista San Benedettese e torna al successo il Chieti che grazie anche ai nuovi acquisti espugna per 3-0 il campo dell'Agnonese riprende così anche per i Neroverdi la scalata verso i play-off Andrea Costantini il Chieti passa da autorità al Civitelle Gnagnone e si regala una bella epifania e soprattutto un inizio molto positivo di anno e gironi di ritorno decisivo l'1-2 piazzato da Dos Santos e Fiore dopo la mezz'ora una combinazione che ha tramortito i padroni di casa dell'ex tecnico nero-verde Silvio Paolucci in tribuna perché squalificato l'allenatore del Chieti Ronci attinge ai rinforzi delle ultime ore titolari subito il portiere classe 97 Romagnello e il difensore classe 96 Sebastianelli in panchina Pietrantonio in attacco c'è Molenda al fianco di Dos Santos Olimpia priva di Pifano di Ronza e Jallov il croato Peic appena attesserato non è disponibile per problemi legati al transfert il vento rende la vita difficile 22 in campo fase di studio prolungata che si protrae per quasi 20 minuti per poi essere rotta dalla combinazione guida-marolda il primo serve il centravanti che supera in uscita Romagnello ma si allarga troppo e la palla sfila via al ventitresimo il turno di Di Lollo con un destro dalla distanza Romagnello blocca a terra sicuro il Chieti però ha in fiore il vero valore aggiunto e poco prima della mezz'ora gioca un buon pallone sulla destra va al cross per Molenda che di testa non trova lo specchio della porta trentatresimo nuova combinazione guida-marolda con quest'ultimo che tente il colpo dalle limite dell'area alto di poco capovoggiamento di fronte il Chieti trova il gol angolo di Delgrosso e Dos Santos appossato sul primo palo buca la rete granata vantaggio teatino con il gol del solito brasiliano alla rete numero 11 in campionato il Chieti coglie l'attimo al trentasettesimo raddoppia grazie all'euro-goal di Nicola Fiore che tira fuori dal cilindro un colpo dei suoi sinistra d'antologia dai 25 metri che fulmina Mancino da rivedere la prudezza del giocatore tornato nero-verde un mese fa ad inizio ripresa c'è una novità tra i monesani fuori Chiocchia dentro Serrone ma è ancora Nicola Fiore a bombardare da qualsiasi posizione come accade al quarto chiamando alla parata in angolo Mancino il Chieti è padrone del campo e controlla contro un agnonese inerme che perde i pezzi Martinetti si fa male nello scontro con Varone e lascia il campo a Faggiano al quarto d'ora prova la conclusione anche Lima Cresto ma non trova la porta i nero-verdi giocano sul belluto e il ventitresimo chiudono definitivamente il discorso Dos Santos si appropria della corta respinta di Campanella entra in area e offre sul piatto d'argento il padrone del trissa Ivan Varone che insacca senza problemi sesta marcatura per il centrocampista col vizio del gol da qui alla fine accade ben poco Roncini approfitta per inserire Scalbi e l'ex Amiternina Mariani perde il grosso e Sebastianelli al trentottesimo Vitale vede Mancino fuori dai pali e prova a beffarlo senza riuscirci passarella anche per Dos Santos che viene avvicinato da Comini ma il finale è 0-3 per i Morizzani è la seconda sconfitta interna consecutiva il Chieti ferma la ministriscia negativa e rilancia la corsa verso i playoff l'obiettivo più immediato però è quello della continuità il derby con il San Nicolò sarà un banco di prova di livello Ed ora il calcio a 5 agrodolce l'ultimo turno per le abruzzesi del massimo campionato il Pescara vince e si porta in vetta l'acqua e sapone perde a domicilio con l'asti ed entra in crisi Paolo Renzetti vola il Pescara nel massimo campionato di calcio a 5 il successo di 8 a 0 ottenuto su Latina ha regalato infatti ai ragazzi di Fulvio Colini il primato in classifica con 30 punti all'attivo dopo una scalata impressionante iniziata due mesi fa ma i biancazzurri non vogliono fermarsi e guardano avanti con fiducia turno di riposo per il città di Montesilvano che resta fermo a quota 25 prosegue invece il momento negativo dell'acqua e sapone i nerazzurri non sanno più vincere con l'asti e anzi è arrivata una sconfitta a domicilio che brucia il 3-1 finale per i piemontesi ha messo in mostra in maniera evidente lo stato di crisi dei ragazzi di Bellarte che sono scivolati a meno 11 dalla vetta urge una immediata inversione di tendenza sicuramente siamo tutti dispiaciuti ci tenevamo a iniziare l'anno nel migliore dei modi soprattutto in casa volevamo vincere per iniziare con i tre punti però per fortuna abbiamo abbiamo subito domenica la Lazio possiamo riscattarci subito dobbiamo riscattarci subito e niente dobbiamo andare là motivati più che mai con più cattiveria forse e assolutamente cercare di portare la vittoria a casa perché ci servono i tre punti e diciamo riscattarci subito può farci bene anche per il proseguo della stagione si avvicina anche sempre di più a grandi falcate il mese di febbraio qual è ovviamente il tuo obiettivo personale andiamo tutti a Belgrado a vedere anche Cesaroni o no? ma guarda è sicuramente una cosa che mi piacerebbe tantissimo giocare e partecipare però diciamo è meglio pensare partita per partita lavorare giorno dopo giorno dopo i risultati arrivano se c'è sacrificio adesso pensiamo alla Lazio poi piano piano i risultati anche personali quelli con i risultati di gruppo vengono sempre ed è tutto per oggi grazie per l'attenzione e buonanotte grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione